Rientriamo in studio con noi ospite Guglielmo Cevolin, presidente di Historia Limes Club. Buonasera. Buonasera. Allora, ritorniamo su coronavirus, perché è in corso un G20. Sì, il G20 economico, finanziario, con i presidenti delle banche centrali. E al G20 ovviamente ci sarebbe anche compresa la Cina, nei grandi venti, ma la Cina non partecipa per il coronavirus. Poi un altro tema di grande importanza trattato in questo G20 in corso è il Giappone, perché il Giappone, primo, ha delle difficoltà a realizzare le Olimpiadi proprio a causa dell'effetto del coronavirus. Poi il governo è in crisi per accuse nell'aver trattato male la questione della Diamond Prices, della nave che è rimasta in quarantena e che comunque ha avuto una grande diffusione a causa poi anche per certi versi della quarantena. E forse ci servivano altri interventi, non lo so, io non sono un medico, ma comunque questo mette in crisi il governo. Governo che comunque è in difficoltà anche economiche, perché comunque il Giappone è sempre con un debito megagalattico e a rischio recessione. Quindi uno dei temi del G20 è anche questo rischio. In più ci sono le conseguenze del coronavirus economiche che vanno sul versante della crisi del settore aereo, con grandi perdite, crisi del settore del lusso a causa ovviamente dei viaggi connessi poi allo shopping e così via, crisi del settore auto, 92% in meno delle auto cinesi vendute e in più crisi della vendita del commercio online. Amazon sta sollecitando i suoi fornitori a produrre di più perché i magazzini languono e comunque dal punto di vista dei prodotti cinesi, che come sappiamo è la fabbrica mondiale per molte cose, c'è almeno un raddoppiamento dei tempi di consegna misurabili in due o tre settimane in più rispetto a quelle, quindi ecco questo è il G20 attuale in corso, che sta cercando di reagire con le banche centrali, probabilmente con delle misure sulla leva finanziaria, sulle monete. Ecco, poi mi parlava di questo vertice europeo, questo fallimento del vertice europeo, perché alla fine è stato un fallimento, si doveva fare la finanziaria, tra virgolette. Un accordo sul bilancio diciamo 21-27. Ecco, tutto andato a piedi per aria perché la Germania ha tenuto le sue posizioni. La Germania, anche la Francia, la Germania non è riuscita a fare la guida per raggiungere l'accordo, Macron ha difeso le posizioni dell'agricoltura, il tentativo era quello di diminuire due posti di bilancio, che sono poi le principali, cioè la coesione e l'agricoltura. Non si è riusciti, si farà un rinvio, quindi siamo ai soliti rinvii dell'Unione Europea, però c'è da tenere presente un altro aspetto, che questo dimostra una certa debolezza in una fase nella quale stiamo trattando, iniziamo a trattare con il Regno Unito per la Brexit e quindi anche da questo punto di vista dobbiamo, come dire, farci vedere un pochino più coesi proprio per trattare bene poi con l'Unione, con il Regno Unito. E poi insomma c'è questo corso di geopolitica. Il nostro corso di geopolitica che è stato avviato, ecco qui c'è la lezione in anteprima che abbiamo fatto ieri sera, venerdì, con il professor Stefano Bianchini sull'Europa Centro-Orientale, ecco qui il cartellone del corso con cinque appuntamenti a Pordenone, tre a Vittorio Veneto, tre a Udine e qui il professor Bianchini che ha spiegato un po' per l'Europa Centro-Orientale come ormai chiave per comprendere le dinamiche all'interno dell'Unione Europea col gruppo di Wiesengrad, come questo gruppo si aspetti molte cose dall'Unione Europea, si aspetti di essere protetto e poi però in alcune decisioni decida anche abbastanza coeso, però anche qui non in tutte. Quindi estremi elementi di complessità rivelati da questo studioso che da 40 anni studia sul campo l'Europa Centro-Orientale-Balcanica, ha un progetto di 30 anni con 15 università europee, ho partecipato anch'io per due anni a questo progetto Uniadrion dove abbiamo formato i magistrati dell'Unione Europea e la prossima attività comunque di storia sarà la prossima settimana, mercoledì 26 febbraio a Udine alle ore 17 in via Tomadini 30 con il professor Gianfranco Pasquino, il tema sarà riforme elettorali, governabilità e non democrazie, quindi temi connessi al referendum che probabilmente, anzi non che probabilmente, dico probabilmente perché nessuno ne parla, che ci sarà il 29 marzo e poi le non democrazie che è un tema connesso al populismo in Europa e anche non solo in Europa, ma pensiamo a Cina, Turchia e Russia. Benissimo, ringraziamo Giuliano Cevolin, ricordiamolo sempre, presidente dell'Istoria, LimeScream. Grazie mille e buon weekend. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.